Ciao ragazzi, è tornato lo slime Siete pronti a rilassarvi con questo magnifico e nuovo slime? Ora lo apriremo insieme Ecco lo slime Lo lavoriamo per bene Prima di posizionarlo sul microfono Siamo fatta la piettina Solo un piacetino Adesso l'accelerato Aggiungere la piettina La piettina La piettina La piettina vi piace il colore di questo slime? fantastico il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti 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 Spero che questo video vi sia piaciuto